I giudici, i giovani devono giudicare così, è meglio che mettano lontano. E' lì, è lì, è lì. E' tutta salute questa. Masao fantastico, secondo me si sta preparando l'anciaccio. Come è un allenamento. Sta studiando gli avversari, è ancora lì. Rinaldi tira, il secondo non so che cavolo sia. Senta, Rodigari, e Masao esce dalla scia. Masao fa paura. Esce dalla scia. Si lo temono, Zao. Fa uso per le sue partenze minime. E' per i suoi sorpassi mozzatiati. Si, anche mozzatiati, però. Anche l'ame. Poi comincia ancora lì, eh. Si è agganciato a Nicola. Segue Nicola. Esce all'esterno, esce all'esterno. Non è come... Uh, mamma. Uh, mamma. Ha cercato di facciare le suona. Scatto di Masao. Masao, scatto. Mentre giù la mano e non muove un po' strano. Dai, Zao, mettici tutta la tua forza. Stanno prendendo un grande... Bravo, Zao. Grazie.